benvenuti a toxic rapporti tossici narcisismo e oltre parto dal fondo parto dalla definizione l'importanza che noi attribuiamo a una persona è retroattivamente determinata dalla quantità di danno che gli abbiamo permesso di somministrarci e spiego molte volte la persona, le persone, sto parlando di persone che sono entrate in relazione affettiva con noi eccetera uno può pensare che se io consento a una persona di farmi un grande danno è perché, come dire, ne sono innamorato questo innamoramento mi porta a concedere il lusso di danneggiarmi tuttavia è pur vero che nel processo di indimenticabilità dell'ex partner o di difficoltà di elaborazione del lutto del rapporto che è finito in questa fase si continua a elaborare, si continua a pensare alla persona e si sedimenta continuamente l'idea di questa persona e si continua a ricordare io ecco, questa è una cosa che ho notato tantissimo come il pensiero di un ex negativo di un ex tossico di un partner tossico di un partner tossico che ormai è diventato ex sia un pensiero intrusivo una delle cose che dà più fastidio al paziente in terapia che viene in terapia che va dallo psicologo, che viene da me per questioni di questo tipo è l'intrusività ossessiva del pensiero è non riuscire a strapparsi da addosso questa persona naturalmente sono la memoria di questa persona e naturalmente buona parte dei pensieri che si fanno su questa persona sono di tipo negativo sono tutti i ricordi del male che ci ha fatto questo male che ci ha fatto questo male che noi gli abbiamo consentito di fare vada a crescere retroattivamente l'importanza che questa persona ha avuto nella nostra vita perché in fondo è come se il rapporto continuasse sostanzialmente e se continua e se io gli ho consentito di farmi questo male ci deve essere un motivo perché o sono deficiente oppure ne ero profondamente innamorato molto di più di quanto al momento lo percepissi cioè per cui l'innamoramento la quantità il valore proprio a livello quantitativo e anche qualitativo dell'innamoramento verso queste persone si va a stratificare si va anche a costruire arrivo al punto di dire costruire dopo che le si che le si frequentate semplicemente perché si continua a pensare a quanto queste persone sono state dolorosamente determinanti per noi e se sono state dolorosamente determinanti per noi allora dovevano essere determinanti allora dovevano essere importanti allora il nostro doveva essere un grande amore doveva essere qualcosa di indimenticabile perché non lo sto dimenticando e naturalmente non lo dimentico perché lo continuo a pensare è un brutto loop è un brutto loop psicologico nel senso che la grande difficoltà del paziente è proprio quella di uscire da questo loop e di riaprirsi alla vita e la soluzione è paradossale la soluzione è riaprirsi alla vita cioè in realtà il paziente viene cercando una specie di bacchetta magica di magia che gli faccia dimenticare questa persona e così da potersi riaprire alla vita superare questa cosa in realtà quello che non capisce difficoltà a capire a mettere in pratica cioè a capire razionalmente lo capisce ha difficoltà a metterlo in pratica è che deve invertire il meccanismo cioè devi tornare alla vita e quindi dimentichi la persona non dimentichi la persona e quindi torni alla vita sforzandosi un po' ma queste sono cose che vanno costruite paziente per paziente e che dico nel privato appunto prendendo in esame bene insomma la persona perché fare come dire delle istruire delle strategie che vadano bene per tutto il pianeta è una cosa abbastanza arrogante da parte mia vi saluto e al prossimo video ciao 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 ciao